Sì, già Cangellosi per Mediotel Radio, continuano le nostre interviste alla fine dell'Assemblea, della 69esima Assemblea Federalberghi e ho qui al mio fianco il Presidente Federalberghi Roma-Lazio, Giuseppe Roscioli. Benvenuto su Mediotel Radio. Grazie, benvenuto a voi e a tutti quanti. Un taglio molto interessante, sia politico che imprenditoriale, dovuto anche alla presenza oltre che del Ministro, anche di Flavio Briatore. Davvero sono state due ore ricche di tanti spunti, si è parlato di pressione fiscale, di evasione fiscale, della questione Airbnb, di formazione e di occupazione per i giovani ragazzi. Sono uscite fuori anche un po' di provocazioni dall'imprenditore Flavio Briatore, che sappiamo il suo carattere spiccato e istrionico. Quindi facciamo il punto su questa importante conferenza. Indubbiamente Briatore, che ha avuto la possibilità di poter delocalizzare, ha trovato una visione giusta, nel senso che in Italia è difficile investire, è difficile gestire, è difficile fare l'imprenditore sano. Tant'è che in Italia sempre più spesso si annida quello che è l'imprenditoria del sommerso, perché ci sono le scuse per poterlo fare. All'estero è diverso, l'imprenditore sano è benvenuto, quindi non voglio dire che gli mettono un tappeto rosso, ma lo lasciano fare e quando questo fa bene ci sono anche i risultati. Da questo punto di vista ha perfettamente ragione, purtroppo in questo contesto, ovvero di albergatori italiani, per noi delocalizzare è un pochino difficile. Nel senso, o vendiamo e andiamo a fare un altro mestiere all'estero, ma se vogliamo fare il nostro mestiere in Italia dove abbiamo le nostre aziende, purtroppo abbiamo a che fare con questa amministrazione, questa politica. E questo approccio che si ha al turismo, che come è stato un po' evidenziato oggi, è un pochino, come dire, vediamo il turista molto spesso come un qualcosa che dà fastidio. Nella realtà il turista lascia molto di quanto spende sul territorio, praticamente quasi tutto, e all'eccezione dell'albergo, che è solamente, come è stato già detto oggi, il 30%, tutto il resto viene redistribuito nei vari rivoli, fra ristorazione, commercio, eccetera. Sì, è stato definito anche il turista un po' da spellare, no? Il turismo repellente. Sì, questa è una vecchia concezione che ormai, francamente, dobbiamo abbandonare e dobbiamo creare quelle condizioni in cui è tutto trasparente, è tutto chiaro. Io mi ricordo a Roma, facciamo una battaglia per riuscire a mettere in chiaro quello che era il trasporto dall'aeroporto all'albergo con un prezzo fisso, perché non si sapeva mai quanto costava andare in albergo dall'aeroporto. E quindi bisogna fare cose in questo senso, perché poi all'estero in effetti è così. Infatti si è parlato anche di infrastrutture, di accorciare i propri tempi, no? Con degli esempi che sono stati fatti, per esempio, all'albergo porto di Nizza, in un quarto d'ora si è in città, altri esempi anche in Italia e soprattutto si è parlato pure di porti turistici, perché soprattutto quelli del sud, insomma, abbiamo anche un settore croceristico in espansione, diversi milioni di turisti arrivano proprio dalle crociere, quindi insomma attrezzare anche i porti. Ma nella realtà la politica italiana nei confronti della nautica e soprattutto della nautica da di porto è sempre stata completamente negativa. Io mi ricordo un manifesto che ci fu negli anni addietro dove c'era scritto anche i ricchi piangono perché era stata messa la tassa sulle imbarcazioni da di porto. Allora se la politica e la visione dell'Italia nei confronti di chi può spendere e quindi incentivare chi spende è invece esattamente al contrario, allora è chiaro che le barche dove sono a finire in Spagna, in Grecia e in Francia. È chiaro, quindi sulla nautica da di porto bisogna invertire completamente la rotta. Invece tutta la parte relativa anche qui al turismo che viene generato dalle crociere, che l'Italia è un po' un punto di attrazione da questo punto di vista, anche qui molto spesso vediamo Venezia piuttosto che anche Roma con il blocco dei bullman turistici, molti di questi sono proprio queste delle crociere e non si va nella direzione giusta, ovvero stanno tentando in tutti i modi di far dirottare questo tipo di turismo in altre nazioni. Sì, infatti l'ultima domanda che avrei fatto è proprio quella sui bus turistici per arrivare un po' al locale, no? Roma-Lazio. Beh, qui abbiamo dimostrato come un bus turistico che contiene 50 persone occupa meno spazio e consuma di meno di altrettanti pulmini, che questo è quello che sta accadendo oggi, con otto motori accesi, trasportano le stesse persone. Ma a questa dimostrazione tecnica, sia a livello di inquinamento, sia a livello di traffico e superiore, c'è stato detto che alla fine quello che contava di più era l'inquinamento visivo, ovvero davano fastidio vedere i pullman turistici. Allora di fronte a queste cose francamente non ho risposte. Allora concludiamo con una battuta, una provocazione che è stata fatta anche da Flavio Briatore, citato Bob Dylan, premio Nobel, al di là della bravura dell'artista, ruba poco e andrà in prigione, ruba tanto e ti faranno re. Concludiamo così per fare una provocazione anche per quel che riguarda la politica, no? Sì, basti pensare, ecco, è stato citato questo fatto di Airbnb che non ha versato oltre 250 milioni di euro e non è successo nulla. Voglio vedere se un imprenditore italiano non veste 250 milioni che cosa succede, insomma. È chiaro che la potenza della multinazionale ai nostri politici fa spavento perché sono molto spesso politici anche improvvisati con questa politica del tutti vogliamoci bene e quindi alla fine ci va dall'idraulico all'elettricista, brave persone oneste ma con poche competenze e questo un paese come questo non se lo può permettere. Ultima domanda, secondo lei è vero che in Italia siamo un po', come dire, gelosi del turismo di lusso, perché non siamo pronti ad accoglierlo, come dice Flavio Briatore? Perché in Italia c'è molta difficoltà nell'accettare che qualcuno possa essere più ricco di un altro, quindi anziché, come stavo detto, essere contenti che ci siano persone che vengono qui, che spendono e comprano e lasciano questi soldi sul territorio e questo può permettere ad altre persone di poter lavorare e crescere con la propria famiglia, francamente trovo difficile invertire questo se non con una fase culturale completamente diversa che deve nascere proprio dalle scuole e quindi forse per la prossima generazione ce la faremo. Grazie, le auguro buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.